L'hanno richiamata sull'orchestrina del Titanic, era in terza classe, adesso suona insieme agli altri. Il pericolo qual è? Che di fronte a voi avete due scelte. O si va avanti così se arriva all'Europa tedesca, oppure si cambia passo. Si cambia passo decisamente, si fa l'Europa su per Stato, per carità federale. Naturalmente non ci sono più inglesi che rompono le scatole, potrebbe essere agevolato il processo. Fate qualcosa, fate presto. Ma una sola cosa noi vi chiediamo, qualsiasi cosa decidiate, chiedete il consenso del popolo, perché i popoli sono padroni del proprio destino. La ringrazio. Allora, do la parola al deputato Fabio Rampelli. Il Presidente del Consiglio ci sta lasciando per gli impegni istituzionali e do quindi la parola al deputato Rampelli. Sì, grazie Presidente. Fermo le stando che non mi pare molto corretto, anche perché mi pare fosse stato concordato che il Presidente del Consiglio dovesse assistere, quantomeno dopo aver fatto la sua seduta al Senato, a tutti gli interventi dell'opposizione. E si dà il caso che gli interventi dell'opposizione non siano finiti. Anche dopo il mio dovrebbero essercene degli altri. Fermo le stando questo atto di maleducazione istituzionale che intendo sottolineare, ma che non mi stupisce e che è frutto comunque di un'arroganza, che è la metafora dell'arroganza con la quale il Presidente del Consiglio e il Governo italiano fin qui hanno trattato le vicende che sono poi degenerate nella crisi europea e nella fuoriuscita della Gran Bretagna. Certamente noi non abbiamo responsabilità diretta nella fuoriuscita della Gran Bretagna dalla Unione Europea, cioè nell'esito del referendum, ma essere stati per così tanto tempo in silenzio, non aver mai inteso recepire lo stato profondo di malessere del popolo italiano e dei popoli europei di fronte a una deriva dirigista della Unione Europea, non aver voluto recepire le insofferenze rispetto al rigore di bilancio alla conduzione eccessivamente severa della Germania che si è tentato anche di negare, negando l'evidenza nei confronti appunto del vecchio continente e della sua convenzione, non aver voluto accogliere il grido di dolore dei nostri produttori rispetto alla mancata tutela dei prodotti tipici, del made in. Potete liberare i banchi del Governo, per favore, colleghi? Grazie, grazie. Prego, deputato Rampelli. ...delle piccole e medie attività produttive, aver voluto dare sempre grande evidenza alle vicende che hanno interessato le banche, non aver mai voluto prendere di petto la questione dell'Europa intesa come unità monetaria, l'euro e tutte le conseguenze negative che ci ha comunque scaricato addosso, non aver voluto far prevalere il buonsenso nella gestione degli enormi flussi migratori e aver voluto molto semplicemente cercare di mettere un cerotto a una ferita che non era evidentemente marginabile attraverso il mero approccio della cosiddetta solidarietà. Solidarietà sì, ma necessità di comprendere in fondo le trasformazioni di quel continente e di intervenire lì per sconfiggere la povertà, il sottosviluppo, attraverso adeguate politiche internazionali che l'Italia semmai avrebbe dovuto, prima fra tutte, cercare di guidare. Non aver voluto sfiduciare, tra virgolette, il piano Juncker e Juncker stesso. Oggi ci troviamo paradossalmente a discutere delle dimissioni presentate dal Premier inglese, britannico David Cameron, ma non c'è nessun cenno di pentimento da parte del Commissario europeo, ex Presidente del Consiglio dell'Ulsemburgo, uno dei più piccoli Stati dell'Unione europea, che clamorosamente si trova a guidare l'Unione stessa. Certo, il Lussemburgo è un piccolo Stato, ma è un forsiere. Lì dentro vengono custoditi tanti, forse troppi, segreti. E questo dovrebbe essere il vero valore aggiunto del Commissario Juncker. Sarebbe il caso, visto che il fallimento dell'Unione europea, con la fuoriuscita della più antica tra le democrazie moderne, quella inglese, è un fallimento sicuramente anche della Gran Bretagna, ma principalmente è il fallimento dell'Europa, sarebbe davvero giusto e necessario, e noi lo scriviamo nella nostra risoluzione, che Juncker in prima persona si dimetta, facendo il proprio atto d'accusa e cercando di mettere a centro dell'attenzione le grandi, grandi nodi non affrontati nel mal funzionamento dell'Unione europea. A queste vicende ci appelliamo. Per questo riteniamo che l'operato del Governo italiano nel suo rapporto con l'Unione europea sia stato largamente deficitario. Per questo riteniamo che le correzioni di rotta più recenti sono soltanto dei gargarismi intellettuali fatti dal Presidente del Consiglio, arrivati fuori tempo massimo, ha avuto due anni e mezzo per rendersi conto del reale stato delle cose, dell'impoverimento progressivo del nostro popolo, dei quattro milioni di poveri e delle notevoli difficoltà per la produzione italiana, anche in relazione alla, e concludo, incapacità e non volontà da parte delle autorità europee di sconfiggere la concorrenza sleale, primo passo per poter far avanzare la produzione. L'ultimo nodo è quello del debito pubblico che galoppa, ma questa è un'altra storia che affronteremo nel corso della dichiarazione di voto. Grazie, deputato Rampelli. Allora, deputato Palesio, sull'ordine dei lavori, prego. Sì, grazie, signora Presidente. A me spiace, ma faccio questo intervento perché ne rimanesse traccia agli atti. C'era stato un accordo per lo svolgimento dei lavori di questa mattina, cioè che, stante l'emergenza, c'era stato uno spostamento, una riduzione rispetto al calendario iniziale concordato con tutti. Detto questo, nel contesto della discussione, l'accordo ha previsto una serie di deroghe che tutte le opposizioni o i rappresentanti delle opposizioni, gruppi o componenti che siano, dovevano essere ascoltati per un tempo autoridotto da parte del Presidente del Consiglio. Peraltro c'era anche un'altra deroga rispetto alla prassi.